Sono nato e cresciuto in un piccolo paese, di alta collina in mezzo alla Sicilia. La casa si apre su un'ampia vallata dove in primavera si incanala un forte vento. La veranda è esposta a sud-est. Di giorno è canicola la più parte dell'anno, le sere d'inverno sono gelide. A due chilometri il paese finisce e inizia la calmuto. Per raggiungerlo bisogna attraversare una miniera di sale. La Sicilia interna, la Sicilia arida, diceva lui, di quella bellezza che ti prende lentamente o più quando se ne è lontani nel ricordo. Una bellezza per cui ci vuole tempo, diceva, ci vuole intelligenza. In casa mia c'erano pochi, pochissimi libri, ma c'erano alcuni di quelli di Leonardo Sciascia. Io ho cominciato a leggerli quando ero già ragazzo e ad accorgermi che nulla sapevo di me e del mondo se non l'apprendevo lì. In quella letteratura, in quello specchio, che era specchio anche sul mio mondo, il mio piccolo mondo, il mio paese, nero sul nero. A cent'anni dalla nascita vale anche per me quel suo ammonimento che dovrebbe scoraggiare parole fuori luogo. La morte è terribile, diceva, non per non esserci più, ma al contrario per l'esserci ancora e in varia dei mutevoli ricordi, dei mutevoli sentimenti, dei mutevoli pensieri di coloro che restano. Io non l'ho conosciuto. Ho frequentato la noce dove andavamo a trovare la mia maestra elementare. Mi indicavano la casa di Sciascia. Io non capivo del tutto, ma capivo quello che un bambino riesce a capire, sa capire. Non la sapevo invece della penna come spada, della lingua che può farsi asciutta e tagliente, come le nostre colline di gesso. E mi trovo qui dopo tanti anni a chiedermi, me lo sono chiesto tante volte, come si può provare una così acuta nostalgia di un uomo che non aveva mai conosciuto. E che dopo aver letto i suoi libri, alcuni dei libri che aveva letto lui, e i libri sui libri, ho capito che nella vita non si apprende solo dai libri. Si apprende molto, moltissimo, quasi tutto dagli uomini. E ci sono stati uomini attraverso cui, negli anni, lontano dalla Sicilia, sono sempre tornato a casa. Sono sempre tornato a Sciascia. A Deano Sofi, Massimo Bordini, soprattutto lui, che è il mio faro, Emanuele Macaluso. Sciascia credeva nella giustizia. E ci credeva fino all'ossessione. Credo sia un modo di essere siciliani. Come si può, con difficoltà. Credeva nella giustizia secondo ragione e diritto. Una giustizia che deve essere fatta anche di sostanza. E la sostanza, io credo, e credo fosse così anche per Sciascia, è nella giustizia sociale. Il libro, fra tutti i prediletto, non a caso, con il personaggio storico a Sciascia più caro e la tentazione di riscriverlo che ebbe per tutta la vita, come alla ricerca di una più profonda verità e morte dell'inquisitore. Forse proprio perché non arriva a dimostrare ciò che nel gioco delle supposizioni invece arriva a ipotizzare. Cioè che l'eresia del suo compaesano, di Fra Diego Lamattina, fosse un'eresia sociale. È il sentimento dell'ingiustizia che muove le idee, gli uomini e il mondo. E in lui è segnato dalla conoscenza profonda dell'universo morale in cui è maturata la sua vocazione di scrittore e a cui è rimasta sempre ancorata la compassione per i poveri di Regalpetra, per i bambini a scuola, per i minatori, per quella miniera che segnò col dramma tutta la sua vita. E lo chacha giovane, uno chacha sociale e spagnolo, rimasto forse un po' in ombra nella memorialistica rispetto allo chacha maturo, lo chacha civile e francese, celebrato per le sue battaglie illuministe, liberali, radicali. Francia o Spagna, anche questi sono schematismi, lo so. Ma lui aveva la Spagna nel cuore, e ce l'ho anch'io. E quella tensione sociale legata alle cose di Spagna, maturata negli anni dell'antifascismo, si rintraccia in tutta la sua attività di scrittore. Ed è testimoniata nello straordinario racconto, l'antimonio con cui termino questi pensieri, leggendo qualche riga. Io credo nel mistero delle parole, e che le parole possano diventare vita, destino, così come diventano bellezza. Tante persone studiano, fanno l'università, diventano buoni medici, ingegneri, avvocati, diventano funzionari, deputati, ministri. A queste persone io vorrei chiedere, sapete cos'è stata la guerra di Spagna? Che cosa è stata veramente? Se non lo sapete, non capirete mai quel che sotto i vostri occhi oggi accade. Non capirete mai niente del fascismo, del comunismo, della religione dell'uomo. Niente di niente capirete mai. Perché tutti gli errori e le speranze del mondo si sono concentrati in quella guerra. Come una lente concentra i raggi del sole e dà il fuoco, così la Spagna, di tutte le speranze e gli errori del mondo, si è accese. Tutti gli errori e tutte le speranze del mondo io ho provato. Con Leonardo Sciascia Grazie a tutti.